Siamo con Gaspari di Modugno della Gramigna, ciao ragazzi! Ciao, buonasera! Allora, la partita com'è andata? Io direi che al di là del risultato è andata abbastanza bene, siamo stati una squadra, abbiamo giocato l'uno per l'altro, abbiamo fatto abbastanza gol, ne abbiamo subiti pochi e finalmente siamo arrivati alla sperata vittoria. I primi tre punti di questo girone per il playoff? Sì, i primi tre punti, abbiamo lottato, oggi ci abbiamo messo a anima e co. È stata una partita combattuta? Sì, molto combattuta, ripeto, siamo stati molto uniti e per questo secondo me siamo riusciti anche a vincere e a fare anche molti gol. Al di là della squadra avversaria che comunque all'andata ci ha ammazzato di gol e questa volta... Mi siete presi una piccola rivincita? Anche sì, anche perché non avevamo nulla da perdere, quindi è bello così dare fastidio agli altri che vogliono raggiungere l'obiettivo. Bene ragazzi, in bocca al lupo per le prossime partite e grazie per il vostro tempo. Grazie lupo, ciao! Ciao ragazzi!